Appassionati di tennis, bentrovati! Per questo primo appuntamento vi proponiamo Prokennex, un marchio a noi particolarmente caro. Questa è la nuova Q15 nella nuova colorazione nero e azzurro, finalmente arrivata alla terza edizione ma soprattutto migliorata, migliorata nell'estetica ma soprattutto nella distribuzione della massa Kinetic in tutto il piatto corde. La racchetta è diventata maneggevolissima, potente al punto giusto ma la cosa più importante è la sua semplicità di gioco. Infatti è stata definita la migliore racchetta da tennis al mondo per giocatori da club. Per giocatori da club noi intendiamo tutti quei giocatori che affezionati al tennis frequentano i club e arrivano massimo 4-1 classifica nazionale 4-1-3-5 ma anche di più. Non possiamo dire che questa racchetta non può andare a giocatori agonisti anche di livello più alto. Qui da noi la racchetta Prokennex modello Q15 è disponibile in tutte le misurazioni del manico al prezzo di 185 euro. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima proposta!